GF Vip 7, una battuta infelice di Edoardo e Nikita Pelizzons catena l'indignazione del web. Class uguale P1 questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7. Class uguale P1 tra i protagonisti indiscussi di questa edizione c'è sicuramente Edoardo Donnamaria. Reduce dal Van Gate e dalla rottura con Antonella Fiordelisi. Class uguale P1 i due però nelle scorse ore si sono riavvicinati e sembrano aver trovato un certo equilibrio. Class uguale P1 nelle scorse ore Edoardo è stato protagonista di alcune affermazioni che hanno fatto storcere il naso al popolo del web. Nikita, ha proposto ai suoi compagni di fare una corsa con i sacchi Donnamaria e le ha riposto così. Class uguale P1 dopo questa affermazione, il web si è diviso. Alcuni hanno infatti preso le difese del volto di forum, dicendo che si trattasse di una battuta. Altri invece hanno invocato la squalifica. Class uguale P1 ha appessare non solo la battuta su Nikita ma diversi comportamenti che non sono graditi al pubblico. Class uguale P1 non sono passati inosservati diversi momenti in cui lo speaker, per strappare un bacio all'influencer, ha usato dei modi poco gentili che non sono piaciuti. No, maine sigur nu-i la fel, trage de mine caratterul meu de fierb. Că baie ploaie, vand, nici un curcubeu, da' ce că toate astea-s doar in capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja. Arunca-ti toate visele intr-o geanta și pleacă, nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Când e sus, când e sus, când e sus.